Sgomento e incredulità nel piccolo centro murgiano di Poggiorsini dove stamattina il parroco della chiesa della Santissima Adolorata si è tolto la vita. Inspiegabili i motivi del gesto. Sgomento e incredulità nei volti della gente e soprattutto nelle menti che ora si interrogano. La notizia ha fatto il giro del paese in pochi minuti. Il parroco della chiesa della Santissima Adolorata di Poggiorsini, piccolissimo centro della murgia barese, si è tolto la vita in questa canonica. Medico legale, carabinieri e magistrato concordano, nessuna autopsia, si è trattato di un suicidio, niente che possa far ipotizzare dell'altro. Non aveva problemi Don Enzo Fiore, 43 anni, originario di Altamura, era stato trasferito da poco a Poggiorsini. Il suo rimane un gesto senza una spiegazione e qui nessuno riesce a darsi pace. Era un brava persona, si è comportato bene, veramente ha fatto delle mezze, delle belle prediche ha fatto. Bravissimo, bravissima persona di Altamura, qui Poggiorsini è un piccolo paese, come mai è successo? I funerali si svolgeranno mercoledì nella chiesa della Adolorata, ci sarà anche il bescovo della diocesi di Altamura, Monsignor Mario Pacello, che è andato via sconvolto senza rilasciare dichiarazioni. Il suo portavoce, Don Nunzio Falcicchio, spiega che questi sono i misteri della vita. Era un sacerdote solare, molto sorridente, molto vicino ai giovani, tutti quanti hanno un ottimo ricordo di lui e i misteri della vita riservano anche questo.